Chiuse le indagini, il pubblico ministero Pierpaolo Montinaro della Procura di Brindisi ha chiesto il processo confermando l'accusa di omicidio colposo nei confronti di due persone rispetto alle tre inizialmente finite sotto inchiesta per la morte di Giuseppe Petraglia, l'operaio di 40 anni, padre di due figli. Il primo marzo scorso precipitò da un'altezza di quasi 11 metri, mentre stava eseguendo lavori di bonifica sull'astreco solare di un capannone della zona industriale di Brindisi, omicidio colposo dovuto a negligenza e imprudenza, nonché all'inosservanza delle norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. La richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio riguarda il legale rappresentante della società T&A Multiservice nonché datore di lavoro e del legale rappresentante della CDM Trasporti Società Cooperativa Committente dei Lavori. Secondo l'accusa, in cooperazione tra loro anche con condotte indipendenti, avrebbero cagionato per colpa la morte di Giuseppe Petraglia, dipendente della T&A che quel giorno, così come contestato nel capo di imputazione, stava lavorando in quota senza essere assicurato, con una fune idonea, e precipitò nel vuoto. Il luogo dell'incidente venne sottoposto a ispezione anche con l'ausilio di un drone per consentire le verifiche degli ispettori dello Spesal. Stando alle conclusioni del medico legale Domenico Urso, al quale venne affidato il compito di svolgere l'autopsia, Petraglia morì in pochi minuti a causa di estese, lesioni, cranioencefaliche e in aggiunta fratture delle costole del bacino. Il PM, inoltre, ha contestato la circostanza di aver mandato l'operaio ad eseguire lavori senza le dovute precauzioni e protezioni, il fatto di non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'azienda a cui erano stati affidati le lavorazioni e la valutazione del rischio e la circostanza di aver messo a disposizione del datore di lavoro un apparecchio di sollevamento per accedere ai luoghi, da cui poi è precipitato l'operaio senza misure di prevenzione e protezione dai rischi di una caduta dall'alto, stralciata la posizione del direttore dei lavori del cantiere.